Parliamo ancora di lavoro, di infortuni sul lavoro, ci ha raggiunti quest'oggi il nostro ospite in studio, il direttore regionale dell'INAIL Marche. Buongiorno. Buongiorno. Per darci in anteprima qual è la tendenza del 2014? Sì, certo. Allora, premetto subito che i dati che adesso andremo a vedere, sia per quanto riguarda gli infortuni che per le malattie professionali, in realtà non sono dati del tutto consolidati, dovremmo aspettare il prossimo semestre e ci potranno essere dei piccolissimi aggiustamenti. La tendenza degli infortuni, parlando prima degli infortuni sul lavoro, i dati statistici confermano un andamento decrescente, come già era stato del resto negli anni precedenti. In particolare, a livello nazionale, li possiamo vedere, abbiamo un decremento del 6,4% e a livello Marche del 4,4%. Anche se c'è da far notare che se il paragone viene fatto relativamente al quinquennio, il decremento nelle Marche è maggiore rispetto al dato nazionale. I casi mortali purtroppo sono stati 28 nel 2014, ad oggi risultano 28, nel 2013 erano 32, però voglio evidenziare che circa il 50% degli infortuni mortali è collegato al rischio strada, sia in etinere sia in occasione del lavoro, che è cosa tutt'altro diversa ovviamente dal rischio in azienda. Un'altra cosa interessante, possono essere i settori maggiormente a rischio, si confermano l'edilizia, l'agricoltura e il manifatturiero, però con specifico riferimento alla lavorazione dei metalli. Ora, un piccolo commento rispetto a punto scesi. Certo, per noi e per tutto il sistema anche un solo infortunio è evidentemente considerato una sconfitta. Dobbiamo dire che però questo, come diceva lei all'inizio del servizio, non può dirsi con esattezza quanto questo decremento sia dovuto alle politiche di prevenzione che sicuramente l'INA e tutti gli altri soggetti del settore pongono in essere in materia di sicurezza sul lavoro o quanto appunto purtroppo alla crisi economica e quindi alla crisi del mercato del lavoro. Questo quindi per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, mentre invece dal punto di vista delle malattie professionali quali sono i dati? Sì, le malattie professionali registrano invece un aumento sia a livello nazionale più 8,9% e ancora più nella regione Marche un più 10% circa. Però questo dato non è negativo come potrebbe sembrare perché potrebbe sicuramente essere stato influenzato dal fatto che grazie anche alle campagne informative che sono state poste in essere dall'istituto molte malattie, soprattutto mi riferisco a quelle muscoloscheletriche che prima non venivano ricondotte alla causa professionale, attualmente invece sono riconosciute come tali. E questo giustifica un aumento? Un aumento. Grazie ad Antonella Onofridio. Grazie a voi. Suo intervento.